Ma bella a tutti i naccheri e benvenuto in una nuova serie, ovvero quella delle player view. Come primo giocatore abbiamo scelto Paskotoviv, la grande leggenda, che ha solcato i campi della serie B, definito il nuovo Alex Del Piero, che però poi è finito in Russia al Krillia Sovitov. Questa è la squadra che io ho costruito intorno, ve lo dico subito, rende molto meglio da C.O.C., presenta un 86 velocità, 72 tiro, 77 passaggio, 82 dribbling, 20 difese e 57 fisio. Quattro mosse vedevole e quattro mosse skill, presa a circa 50000, quindi passimo e prezzo, otto gol fatti, tre assist su quattro partite, anche se non ho fatto un po' di più. Vi consiglio soprattutto di prenderlo all'asta, perché praticamente è un prezzo di scarto e non merita prenderlo con paura, visto che molti intanto non faranno le aste, perché questi giocatori sono un po' più di nicchia. Allora, Pasquato mi è sembrato un buon giocatore per qualità prezzo, poi con questo attacco buggato, un buggato, un buggato, un buggato, rendeva molto bene. Grande, c'è l'unica pecca, assolutamente un po' il fisio che non tiene tanto i difensori, però quando fatti in velocità, in allungo, è tanta 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 roba. Per il resto, gran passaggio, come si può vedere infatti dalle clip, gran assist, gran passaggio filtranti, le punizioni poi, praticamente assurde. Ne ho battute, mi sembra 3 o 4, di cui tipo 1 o 2 gol e una traversa, quindi tanta roba su punizione. In positivo, diciamo, questo giocatore mi è piaciuto, quindi si può dire come pro, abbiamo il tiro, l'agilità, il dribbling anche. Mentre contro è soprattutto il fisico e un po' il campionato che è difficile da ibridare, infatti l'unica è con Bakogu per fare una cosa un po' più decente. Quindi, diciamo, su un 10 io gli darei un bel 7 e mezzo al nostro Pasquato. E nulla, per questo video è tutto. Cianaccheri! Cianaccheri!